E' stato presentato quest'oggi in Tribunale d'Imperia l'accordo di ristrutturazione per Riveracqua. Presente ovviamente il presidente Gianalberto Mangiante che ora ci spiega cosa accadrà nei prossimi giorni. Dunque lo abbiamo presentato, è un vero e proprio piano, ma non solo è un piano, è un piano di cui siamo molto orgogliosi perché ci siamo fortemente impegnati perché quanto avevamo detto nelle documentazioni precedenti e cioè il pagamento del 100% ai vari creditori nell'arco temporale di tre anni e mezzo non solo è stato mantenuto nonostante tutte le turbulenze che si stanno verificando a seguito della guerra in Ucraina, tra cui prima di tutto quanto l'aumento vertiginoso esponenziale dei costi di approvvigionamento materie prime e costi energetici. Ma lo abbiamo anche migliorato. In che termini? Mentre prima erano previsti i pagamenti a favore dei fornitori di beni e servizi in un arco temporale di tre anni e mezzo, adesso il nuovo piano prevede un pagamento entro il 30 giugno 2023 a seguito dell'apporto finanziario del socio privato. Quindi uno sforzo importante ma uno sforzo rivolto al mercato e al territorio dell'imperiese che già ha sofferto troppo per la situazione di riviera acqua e effettivamente meritava un occhio di riguardo nella predisposizione del piano. Ora c'è un'istanza per il pagamento dei fornitori strategici già per la prossima settimana. È così, aspetto estremamente importante perché depositeremo la cosiddetta istanza di sblocco, dove chiederemo al giudice di poter pagare una parte di fornitori per oltre un milione e mezzo a favore di quei creditori che sono considerati strategici per la gestione commerciale di riviera acqua. Un altro atto, un'altra dimostrazione di attenzione al mercato e di voler mantenere e portare gradualmente in rapporti ordinarie di correntezza quanto avviene tra riviera acqua e i suoi fornitori. Com'è la situazione dei lavori relativi alle tubazioni che portano l'acqua del Roia nel comprensorio dianese? Dunque siamo a un ottimo punto di svolta. Abbiamo fatto un incontro in settimana a Regione, Liguria, provincia di Imperia, il Commissario e Riviera Acqua, dove abbiamo quadrato il perimetro dell'intervento, abbiamo tutti guardato nella stessa direzione. Oggi Riviera Acqua è il soggetto attuatore e soggetto attuatore vuol dire neanche disperdere l'IVA su tutto l'intero appalto, sulle opere, perché un soggetto diverso da Riviera Acqua avrebbe voluto significare una dispersione dell'IVA. Quindi non solo siamo particolarmente orgogliosi di quello che è stato fatto, ma lo facciamo perché ha vinto il territorio. Il territorio esce vincente da questa situazione perché tutti abbiamo guardato nella stessa direzione e il territorio ne avrà i benefici. Volevo ringraziare nella fattispecie il presidente Scaiola che ha messo a disposizione il suo assetto amministrativo e tecnico della provincia per poter coordinare e coadiuvare gli uffici amministrativi e tecnici di Riviera Acqua al fine di garantire speditezza, competenza e operatività per l'appalto. Abbiamo subito colto al volo quest'occasione. Mi faceva piacere guardare alla sinergia di tutti gli enti che si stanno attivamente e proattivamente interessando al territorio dell'imperiese. Notizie positive quindi per il futuro di Riviera Acqua, ma anche del nuovo acquedotto per il Golfo dianese, come ci conferma l'ex sindaco di Danomarina e attuale membro del CDA di Riviera Acqua. Giacomo Chiappoli. Sì direi di sì, direi come ho premesso prima abbiamo forgiato questo ferro che ogni tanto cambiava di aspetto e aveva bisogno, non ultimo la guerra, non ultimo gli aumenti, c'era sempre qualche problema. Adesso ci siamo, abbiamo raggiunto un risultato che come si diceva va bene per la gente, va bene per questa famosa acqua pubblica, va bene per il fatto che questo soggetto è stato riconosciuto concessionario, la Riviera Acqua è stata riconosciuta soggetta a trattore, quindi arriveranno i soldi, i 27 milioni e mezzo e se non arrivassero subito potremmo avere la copertura di primi 5 milioni e 8 della regione che poi naturalmente ripescherà da quella cifra lì. Abbiamo fatto tutti i progetti, abbiamo messo in piedi quello che si poteva fare, abbiamo fatto le conferenze dei servizi chiuse, adesso abbiamo solo che da fare la gara. Ci siamo persi un po' di tempo ma come vi ho detto prima perché c'è sempre qualche problema, creato anche e non fosse altro dei funzionari regionali che ogni tanto vogliono delle cose in più e che bisogna sottoporgli e punto e basta. Adesso si va a gara e con la gara cominciamo a dire che quella safena che voi ricordate, io chiamavo così da Imperia fino a Diano Marina verrà rimessa a posto, che è il punto critico del dianese perché poi diciamo da Diano verso Andorra abbiamo dei tubi che insomma riescono ancora a sopportare le pressioni, il problema era la galeazza e dintorno. Un piano di ristrutturazione che guarda anche ad un futuro socio privato anche se lei era contrario e decisamente favorevole a mantenere la società all'intero capitale pubblico. Beh io l'ho detto dall'inizio, voi lo sapete il mio modo di pensare e poi ho chiuso con il sindaco a Diano e quindi non ho più spinto. Io avevo prediletto il fatto di mettere i soldi in tasca ai comuni a prendere i soldini dai comuni che poi sono soldini dei cittadini ma che erano ben spesi per avere una società interamente pubblica. Il che significa che non l'acqua costasse di meno, sarebbe costata comunque come verrà a costare domani ma gli utili sarebbero diventati dei servizi, sarebbero diventati dei nuovi pezzi di acquedotto, sarebbero diventati degli investimenti, cosa che non può fare il socio privato, perché il privato deve fare utile. Però non c'è stato verso perché la Checucci subito ha tentato di capire se c'era la possibilità ma se non ci sono le proposte è evidente che lei va per la strada che gli avevamo indicato come l'assemblea dei sindaci e quindi è andata verso il socio privato. Io spero che non, adesso vediamo poi quanto sarà la proporzione del socio privato, certamente non più del 49 ma non meno del 30, quindi vedremo il range quale sarà e la speranza è che sia un socio privato adeguato perché voi sapete che ci sono società che fanno gestione di acqua pubblica ma che hanno buchi da tutte le parti, speriamo che almeno ci arrivi uno che sia in gamba. Credo che la società è talmente appetibile quando andrà a regime che non ne vedremo solo uno di socio ma forse ne vedremo più di uno arrivare a gara per portarsi via questo questo bel soggetto, insomma direi così.